Non mai temete le insidie di Satana, che per quanto possano essere gagliarde, non varranno mai a smuovere un'anima che si tiene attaccata alla croce. Siate vigilanti e fortificatevi sempre più con l'orazione e con la bella virtù dell'umiltà. E sperimenterete che voi non andrete sommersi nel mare delle tempeste.